Il settantesimo polifonico è stato inaugurato ufficialmente ieri sera con il concerto dell'Ensemble de Caton nella chiesa della Badia davanti al pubblico delle grandi occasioni. Ad appena 24 ore dalla serata con il concerto di Kiev non è stata persa l'atmosfera che si era creata dopo l'esibizione della corale ucraina che ha fermato l'attenzione dei presenti nella chiesa di San Domenico e sulla scia di quella serata particolare e intensa il polifonico ha aperto i battenti con l'esibizione di un gruppo che non ha certo bisogno di tanti orpelli. Il gruppo toscano fin dalle sue prime uscite ha colpito per una coralità coinvolgente raggiungendo il successo in tutto il mondo. La declamazione della parola, l'esecuzione mobile della stessa nella traduzione in canto ha regalato un qualcosa di unico che rende l'Ensemble una delle corali più accreditati nel mondo e anche l'esibizione di Arezzo ha confermato l'alto livello tecnico di quello che è stato proposto, una qualità che è stata particolarmente apprezzata dal pubblico. Oggi la giornata conoscerà i suoi momenti clou con l'esibizione di tutti i gruppi. Stasera il festival di canto popolare in fortezza con omaggio ai Beatles e mentre domani sera il clou con le premiazioni in San Domenico la chiusura del coro giovanile italiano.